Sabato 12 e domenica 13 settembre al parco del dopolavoro ferroviario di Polonia, quinta edizione del torneo tutto molto bello, un torneo di calcio a 5, 32 squadre, i cui componenti sono legati al mondo della musica. Siamo arrivati alla quinta edizione, non mancate una raccomandazione davvero di cuore perché è tutto molto bello, 12 e 13 settembre, parco del dopolavoro ferroviario di Polonia, non mancate!